Le similitudini appunto sono venute fuori da oggi, l'importanza di leggere da giovani, l'importanza di stimolare creatività, creatività e quindi anche impresa, quindi credo che sia l'argomento che riguardi soprattutto noi tutti imprenditori e la voglia di far crescere sempre di più il numero di imprenditori, perché veramente ne siamo troppo pochi, anche per il ruolo sociale che riveste sempre di più l'impresa, che è un ruolo fondamentale, un ruolo che noi tutti sentiamo che è quello di creare posti di lavoro, quello di creare una società con minori problemi e con maggiore tranquillità per le famiglie, questo è un obiettivo ambizioso che noi tutti abbiamo. Però c'è un'altra similitudine che mi appartiene e che sento molto vicino. Abbiamo il piacere di avere Tarveri qui e credo che lo sport sia quello che lega particolarmente l'attività sportiva all'attività produttiva. lo sport che pratico io è diverso dal tuo, mi congratulo per quello che fai, che stai facendo e che ti senti nella tua attività imprenditore. Io pratico un altro sport che invece mi ha imparato ad essere, a fare squadra. È lo sport che mi ha costretto ad essere nel mondo del lavoro, un creatore di squadre o magari di partecipare alle squadre per lavorare e questo sport è che, appunto, pratico ancora e alla vela. Mi dà enormi soddisfazioni ma mi insegna tutti i giorni come condividere le esperienze all'interno di un piccolo ambiente, come può essere una parte a vela e poi riportarla nell'attività lavorativa. Quindi, secondo me, lo sport è essenziale anche perché credo sempre di più che tra imprenditori dobbiamo fare squadra. Adesso si dice sempre di più che piccolo non è più tanto bello e quindi dobbiamo aggregarci. E in questo vi dico che lo sport che pratico mi ha dato fortemente una mano.